Salve onorevoli, rieccoci qui, un nuovissimo episodio su The Council Io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ce l'ho lasciato qui dopo un piccolo intervento con il signor Perù E ora dobbiamo un attimo entrare nella camera della duchessa, dove cazzo è la camera della duchessa? E' questa, qui dovrebbe essere no? Allora, allora Qui, si Perché quanto pare nostra madre ha avuto la brillantissima idea di andare a trovare Hillsborough per quanto noi l'avevamo avvisata E vediamo cosa cazzo ci troviamo qui Ma non sembra la voce di mia madre No, non farmela leggere, ecco Qui abbiamo Non abbiamo leggere, va bene Chi se ne frega Andiamo a cercare Ma no, ma che cazzo è? Ma che cazzo sta succedendo? Ma non è la via da sparata Ah Non sto capendo Io non sto capendo Fermi tutti, io non sto capendo Bella domanda Louie, come on, come on, you know how to tell us apart, right? Yes, yes, but Possiamo andare tutti quanti a scopare nel letto e ci facciamo un bel trisom con le gemelle Credo sia il sogno di ogni bel ragazzetto Porco Giuda Chiediamo a quella dietro Che cosa mi è successo? Che lavoro faccio? You asked me what had become of me since we last met in London, many years ago. What did I answer? You told me you had become a diplomat, Louie You know that because I told you Remember, you told me about the difficulty you had saving some British compatriots during the revolution I was the one who told you that Liar! I was there! Right. Let's find something else Ah, yes. Let's speak about my arrival at the manor Fai una domanda a Emily dietro o fai una domanda a Emily avanti Mi arrivo alla villa Come ci ha accolti, Mortimer? Nella night of our arrival We were warming ourselves in front of the fire Mortimer welcomed us in a very odd way What happened? It won't work, Louie It wasn't Mortimer who welcomed us It was Sir Gregory Sorry, sorry Louie I already told her Very well Aspetta Let's try something else On the first night We went up to bed But I wasn't tired I went for a little stroll Ah, la mamma è comunque ancora riva Aspetta, anzi, vediamo i tratti che abbiamo sbloccato Aspetta, lenti Spia Hai ottenuto un punto abilità in diversivi Scopri tutte le monità e le vulnerabilità di Emily Hizbo Insulta il tuo diario Che Emma non le sappiamo? Emily sì Interrogatorio e logica Ok Però non ho saputo di fatto con chi ha avuto affetto Eh, siamo saliti per andare a corricarci Ma io ero stanco Così sono andato a fare un giretto La mamma comunque è ancora viva Però aspetta, ragioniamoci, no? Allora, prima di tutto La sorella non è stata sparata Va bene? Per lo meno Si vede che la mamma ha fatto un colpo a vuoto Quindi è ancora viva Mentre noi sappiamo comunque Che la gemella è venuta qui E giustamente Dato che Emma è stata cancellata Ora vuole riprendersi Il suo posto, diciamo così Uccidendo Emily Per non so quale chiaro motivo Perché del resto Per anni Si sono scambiate le identità Quindi È difficile Perché possiamo fare una sola domanda Entrambe Però di fondo rispondono entrambe Però non lo so Perché di fondo Se è libera Una cosa ci dobbiamo riflettere Magari ci ha giocato Brutti Più brutti scherzi Perché Non escluderei Che Tipo anche il fatto Di quando siamo andati a letto Due volte Credo che probabilmente Ci siamo fatti Due gemelle diverse Cristo che trauma Non voglio immaginare La gente che veramente Si fidanza O si sposa con Gemelli Quindi una cosa è chiara Perché L'avevo notato Nei comportamenti Che era diversa Non lo so Prima è andare La gemella dietro Che cosa Vi ho sottratto Perché questo Mi dà in grigio Abbiamo parlato La sera prima Siamo saliti Per andare a cuore i calci Ma io ero stanco E sono andato a fare E sono andato a fare Un giretto Do you remember If we saw each other That night or not No Not after going up to bed That doesn't prove a thing I was the one Who told you that Don't think you're going To get away With this deception So easily I can assure you You're going to regret Pretending to be me Once Louis Has exposed you Right I don't think I'll get very far Like this I'll have to find Something better Oh I don't think I'll even wait Until he's finished Take it easy Now Are you mad Louis Lower your arm I better act quickly If I don't want things To get out of hand Come on She's putting one over on you Look at yourself Crying out loud You were prepared To shoot me down Però c'è una cosa Emma vuole fregarci Non In the secret room Behind the study Talk to them About what you've been doing Maybe they haven't spoken About it Between each other yet On the night Of the disappearance Of Elizabeth Adams What about it What do you want To know about that night To shoot me down To shoot me down To shoot me down Perché una cosa È sicura Emily Abbiamo visto Che è molto coraggiosa Non credo Ci avrebbe dato In mano La pistola Avrebbe detto Dai Sparagli Vai Io sono quella Vera Non avrebbe Avuto senso Quella dietro Per ora Per il suo comportamento Iniziale Mi dà più Di essere Emma Ma non ne ho La sicurezza Concreta Perché di fondo L'abbiamo Più o meno Conosciuta E sappiamo Che lei Emily Cioè il fatto Che è andata A trovare lo studio Il fatto Che comunque Tenta sempre Di picciarsi Non mi dà Di persona Che in due secondi Dà la pistola A lui Se dice Dai Sparagli Se non Che lei è Emma Quella che ci sta Dietro E vuole Che l'omicidio Della sorella Ricada su di noi Andiamo sempre Con quella dietro Oppure Possiamo parlare Degli oggetti Che abbiamo trovato Giustamente Perché sicuramente Non gliene avrei accennati Psicologia Interrogatorio Logica Tornando a noi E sperando Che stia registrando Nei migliori dei modi Sì 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 Sta registrando Direi che andiamo Degli oggetti Perché sicuramente Lei non ne ha parlato Perché erano oggetti inutili Eppure noi nella sala Ci siamo visti molti oggetti Siamo trovati in Mortimer's secret gallery Quali relics Abbiamo trovato? Properties Di nome di Mortimer Dato da molto tempo Non era una spada spezzata Che? Non volevo venire a questo, ma mi lasciate un'altra scuola! Cioè? Scusi a lei. D'ora di te e io. Tu hai proprio perduto Emma. Io non ti ho detto tutto. Vai, Louie. Parlare di nostra intimità. Bene, parliamo di noi. Però proviamo a chiedere a quella davanti. Qual è stato il motivo della vostra visita ieri sera? Però vedi che figlio... Lady! Tu devi essere scontato. Non ero in casa l'ultima notte. E' là lì il tuo piccolo gioco finisce, Emma. Perché non ti ho mai detto. Quindi... Tu non puoi rispondere. What? No! You... Didn't do that. I didn't want you to be jealous of Louie. Remember how you always used to react whenever you felt you were competing against a man. You dirty! That's enough. I've had enough of this charade. That's enough. Both of you. Now I know who the real Emily is. E' quella dietro. E' quella dietro. Sì, mi sento che è quella dietro. Perché lei è rimasta veramente dispiaciuta. Invece lei sembra quasi che se ne è fregata. Ah, era una cosa gelosa tra di noi. No, non ha senso. Però porca puttana a scoparsi le due gemelle senza saperlo. Questo qui sì che è un bel colpo di scena. Bravo il mio pacioccone de Rijet! Si scopa le gemelle e nemmeno lo so. Andiamo con... Emily è dietro di te. You are Emily Hillsborough. I knew you. No, 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 cazzo ho sbagliato. No, ho sbagliato. Cazzo, Emily voglio... C'è... Emily avanti, Emma è dietro, porco Giuda! Ok. Specifichiamo. Ritornando a noi, ho rifatto prima tutta la scena. Con le stesse decisioni. E in più ho notato, facendo ancora più attenzione ai dettagli, che comunque quella dietro di noi tende a... Come posso dire? A fomentare la situazione. Quella di fronte a noi no. Quindi Emily è davanti a te. C'è... Emily. No, Louis! She is manipulating you! No, Emma. It's her. I know it. Despite all the trouble you've gone to to put one over on me, I know it is her. That's enough now, Emma. You little slut! Don't think you are going to get away with this so easily. You are going to stop your little game right now! Never! I am Duchess Hill... No! Emily? I am Duchess! But... You don't! I... Dear God! What have I done? See what you've done! See? Louis? Ma... Ma... Ma vediamo prima i tratti criminologo se abbiamo fatto quello giusto. Pensi di aver identificato... Ehm... Costo un punto... ...interrogativo in meno. Ma sì, è quella di fronte a noi, per forza. Criminologo, sì. Ehm... Sì. Ma sono convinto. Ma è realtà non può. Ma... 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 Emily? Ma cosa si è? Ma... 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 O... Ma... 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 Ok... Ma... 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 Oh... Ma... ha tra il dia, per quanto... Ovviamente succede... Oddio! Ma stanno morendo tutti i miei sostenitori? Non posso parlargli? Non per nulla, lui. Posso capire il tuo menefreghismo, ma non puoi lasciare... Von... Stranzetto... Cognome... Prussiano così per terra. Non ci dice nulla? Di ora lo troviamo pure Perù avvelenato. Ci manca solo quello, la ciliegina sulla torta. Aspetta. Ma questa è la camera del barone, non mi interessa, eh? Stiamo indovinare, l'altra è bloccata, vuoi vedere? Appunto. Addio Perù, addio Coso, addio Duchessa. Stiamo perdendo tutti i membri del... Che sono a nostro favore, c'è da dire. Tutti, uno dopo l'altro. Cosa, non potrei aver sperato per il meglio. Ci sta, ci sta, il miele ci è utile. Abbiamo speso un punto, ma con quello ne guadagniamo due di fondo. Quindi ora vediamo di leguarci. Per quanto... È tristissimo quello che è appena successo. Dio, sono tutti qui. Deve hanno ascoltato la scuola. Eh, che direi... Mortimer, può nessuno sentire nulla via la porta? Eh, potrei evitarli. Ma no, andiamoci un attimo a parlare per vedere che cazzo ci dicono. Scusatevi di questo? Non ero in sogno, non ero? Certamente non, Duch Godoy. Cosa sta succedendo? Alguien ha avuto una banca che veniva dalla sala duchessa, e non è risposta. Scusatevi, andiamo in casa. Andiamo in casa. Andiamo in casa. Andiamo a trovare da Lord Mortimer cosa è tutto. Grazie. È andata veritamente di merda. Raggiungiamo la mamma nel giardino. Che cazzo dovremmo fare? Tra l'altro vorrei verificare quanti pezzi d'ambra abbiamo. Zero, giusto? Zero, appunto. La via più veloce per il giardino è passare dalla sala del Gran Conclave, ma i conclave non ci faranno mai passare, ne sono sicuro. Quindi ci conviene di più passare direttamente dalla cucina. Anche se sarà il giro più lungo. Però teoricamente non dovrebbero tenerci troppi occhi addosso, anche perché a questo re chi cazzo sta a mangiare? Allora troviamo Piaggi fermo lì, a mangiare. Oh scusate mio caro fratellino. Eh mio caro fratellino, mio caro figliolo. Purtroppo i peccati di gola, ma vaffanculo Piaggi dai. Un gordo di merda. Che chi le abbiamo? Della terra e dell'aria. Questo che cos'ha? Ah, c'è tre cerchi. Che noi non abbiamo. Ok. A seconda della biblioteca, che insomma, chi cazzo troviamo nella biblioteca a quest'ora. Più che altro, Von, il coso che abbiamo trovato sul balcone, non ci ha permesso nemmeno nessuna forma di interagire. Credo che Perù l'abbia, o steso, o comunque qualcuno l'abbia steso fuori. Ma del resto, se lo trovano sul balcone, non mi dispiace più di tanto, che possano sospettare di lui che abbia fatto qualcosa alla duchessa. Che magari ricade su lui la colpa del problema della duchessa, ecco. Qui abbiamo scale di servizio. Andiamo al secondo piano, ma non ci frega. Noi dove cazzo era? Ma è dalla galleria dei ritratti che si accede alla... alla cripta. Ok. Magari ora troviamo lui e troviamo Mortimer che ci aspetta. O comunque sicuramente, già dal fatto che noi abbiamo, mi ripeto è strano, il fatto che noi abbiamo allontanato Mortimer, o comunque abbiamo preso decisamente nette distanze, credo che a breve ci porterà a... come dire, a scontrarci. O quantomeno sono sicuro che ci ha messo qualcuno alle calcagna. È però di notte che cazzo se ricordo il percorso, porco giuda. Probabilmente mi ha scandalizzato il fatto delle gemelle. Ok, di qui. Di qui. No. No. Qui c'era qualche roba di lisi dorato, o altro. Possiamo raccattare? No? Va bene, diciamo. Vediamo qui. Però lascia il passaggio aperto. Ma sei stronto? Scusa, il primo servo coglione che ci dà un'occhiata ci entra. Vabbè, non la repute un'idea particolarmente brillante. Questo è potuto lucidare. Eccola. Oh, credi che monetina mi puoi sfuggire. Ora che ho capito la vostra utilità, vi raccolgo tutte. Perché sì, non so se ve lo aggiosi, ve l'ho già detto, però ve lo ricordo. Dà dei bonus nei punti esperienza. ecco. Ecco. I'm begging you, talk to me You must trust me, my son You are not ready yet You're the one who should trust me Tell me what's happening You would never believe me I came all the way here for you Now I've found you I'm ready, mother If only Louis, I have always taught you to keep your mind open and rational I know you are going to find this hard to believe But what I am going to reveal to you Is entirely true Many years ago I found out That demons really do live among us I beg your pardon And that they can influence our thoughts Mother Listen to yourself I know you're exhausted But for crying out loud Listen to what you're saying Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? No, these are not creatures with billy goat's legs Forget your Christian folklore Imagine them more as parasitic spirits They possess their hosts And direct them from inside Parasitic spirits? Yes They are capable of going from one body to another as they see fit And two of them are present on this island Right So let me guess Un'uomo nero e Babbo Natale Mortimer e Olma Washington e Bonaparte Non credo Washington prendevi il Laudano Walner e V2 V2 ne abbiamo trovato Di tracce di Laudano Non saprei Mortimer e Olm sarebbe Il grande scandalone Non tanto per Mortimer Quanto per Olm Perché ora ci riflettiamo Però c'è da dire C'è da dire C'è da dire Walner e Godoy Godoy non credo Più di tanto Mortimer e Olm sarebbero i più probabili Ma un po' troppo scontati Non saprei onestamente Tra l'altro signori Un momento che mi stanno chiamando Allora Nel mentre che ritorna Sono ritornato e ci ho riflettuto Walner e Godoy Walner è probabile Che è quello fissato con l'occultismo Eccetera eccetera Quello che anche più o meno Centrava di più Nell'accusa di Emily Cioè di Emily Di Elizabeth Nell'omicidio di Elizabeth Però è troppo scontato In più è un po' impacciato Stupidone Godoy no Godoy si vede chiaramente Che non è un demone È un casa nuova Beh il uomo nero è Babbo Natale Eppure ironia Washington è buona parte No Perché Washington per quanto Potrebbe avere il pragmatismo Per essere un demone Napoleone no Si fa manipolare Con una semplicità Assurda Quindi paradossalmente Ti direi Mortimer e Holm Per quanto è scontato Perché Mortimer Reputo impossibile Che sia Una persona normale Che hai una proof Per supportare Nel caso di questo I want beyond the nightmare mother You understood the masonic date 1191 Of course It was during that siege That the demon took possession Of Sir Mortimer They spent a whole night in conversation Until the early hours Of the morning Mortimer Had passed the test He had charmed the demon And so it chose him To be its host for centuries to come But tell me Did you find his secret study? I did indeed Did you see his maps of the world? He has contacts the world over Yes I've been developing the golden order Across the world for many years And I've never seen Anyone with such influence It's simply inhuman Beh ci sono gli atti di progettazione Well Those property deeds across the world All signed by the same And over several centuries I am proud of you Louis I found your notes Written in lemon juice Where all eyes size you up At one stage I was so afraid of losing my mind That I noted everything down Congratulations Louis Wait Please tell me you didn't open Pandora's box The urn? Yes I did Why? Too bad We'll deal with it later Oddio Magari era veramente l'urna di Pandora Allora Poi andiamo col suo albero genealogico I came across his family tree In his study And only son Since the third crusade The fall of St. John of Acre Louis The fall of St. John of Acre Hmm La conferenza How can you explain that someone manages to bring together so many important figures Without anyone knowing And without any security or personnel Sto notando che Louis Ha un po' il naso storto I must admit I found it difficult to understand How and why Mortimer didn't have a place in history On the continent Mortimer and Holm Are mere dandies Who organize society balls History forgets them With a disconcerting facility No one speaks about them And yet They whisper in the ears Of kings and presidents Ecco Vabbè Diciamo che è tutto Louie I am proud of you You came all this way You found me You have Surpassed me You taught me everything I know Right How did it all begin? I saw him What do you mean you saw him? I was 20 years old I was young And carefree I traveled the world In search of adventure In the Persian Gulf We came across An ancient grimoire That became Composed of seven parts Each one Was a book in itself Set in a sort of Metal armor That structured the whole thing When all the volumes Were brought together They formed a single book On my return to Paris I set to studying These pages I spent all my days And nights Studying them Oh I can imagine You doing that But the writing Was in a language I had never seen before Developed well Before Samarian In my opinion Ecco I found him Or rather he found me He was young Charismatic He was flamboyed Mortimer trovò Dubitò Holmes Cioè lui non era un demone Holmes Porco Giuda Giovane e carismatica You mean Mortimer? He was a veritable mind Of knowledge I showed him the book And he was able To decipher a few passages We spent several months Together studying the pages Ma più che altro La domanda è da chiedere Per effettivamente Ma quanti anni aveva? He was already old In those days Wasn't he? So you recognized him When you arrived on the island Right? No He wasn't in that body But I know It was him I swear It was him The way he spoke His posture A few of his intonations His mannerisms Wait a minute You were talking About 60 years ago I've lost the thread Yes, sorry He helped me Understand certain passages Until I realized That he only translated A few parts for me But I had aroused His interest It was too late How so? I mean to say He manipulated me He used me And in the end He stole the book With all its secrets Did he ever go To your place? Not once At least I don't think so But before disappearing He proposed A pact between us He proposed That I follow him And let him teach me Allow him To bring me up No Di sicuro Rifiuto Beh And you refused Of course Why naturally Louis Ecco You don't make deals With the devil Eh direi Insistiamo You agreed And that was before You spoke to me About demons Wait The baby we delivered You and me That night In Venice Did he have anything To do with Lord Mortimer? The child was his son We stole his son Are you insane? Oddio I always thought we took him To save him That was the case It was precisely To save him From his father Need I remind you The mother died During childbirth? What became of the child? Later For the moment That is not The key issue here Once we found The Alizif in Paris I followed Von Borchert's trail here I didn't think It would lead me Straight to the demon It was careless of me He toyed with me For a few days Until I caught on Until I saw him As he was But he had no intention Of letting me leave We are all his pawns Louis And if we don't want To spend the rest Of our lives Turning round In circles here We must absolutely Get off this island All right Can we move on? Wait a minute One last thing Porniamo sempre Del Al Aizif Perché sono interessato Ma Prima di ciò Sono potuto Permettarvi che il tempo Tirano Ci becchiamo Nel prossimo episodio Ciao